Don Mazzita i numeri La testa e il cuore La sinistra e la destra Oppure se vogliamo parlare Di dimensioni ancora più interessanti Il cielo e la terra L'oriente e l'occidente Quindi è una preghiera bellissima Fatela, mettiamola perché è un gesto Che ti insegna come Ognuno di noi dentro di sé ha il mondo E come il Dio sia così vicino Hai capito Giorgio? Ci siamo? Giorgio è quello che mi ha mandato la mail Dov'è Giorgio? Avete capito quello della mail Don Antonio ti aspettiamo sempre qui Dobbiamo organizzare Vengo anche perché devo guardarvi in faccia Ecco no però Don Antonio tu dici vengo vengo Poi non ti vediamo mai Quindi entro le prossime due settimane qui Va bene? Va bene allora incominciamo D'accordo Buona giornata Buona giornata